Salve, sono il prof L dell'annata L. Oggi mostriremo come si scrive sul registro e inizieremo tutto da qua. Iniziamo. Prendete un foglio, un foglio, prendete un foglio. Foglio, devo prendere il diario, andate pagina che volete, dovete scrivere. Nella pagina qui, nelle righe, scrivete ciao sul registro. Questo è un lavoro molto difficile per scrivere ciao. Ciao sul registro, così, dovete scrivere. Sono il prof L. E vi mostreremo come si scriverà. Dovete scriverne righe piccolino, così. Fate ciao. Non ci vede niente, ovvio. E allora dovete, poi, dovete fare stare a tutti gli alunni e dovete fare molto casino. Quindi prenderete il registro e fate così. Dopo lo rompete, il registro, così lo rompete. Lo rompete, ci scrivete ciao, così, ciao, alla Saif Safi. O alla Moroni Thomas. Ok. Alla Moroni Thomas, Thomas. E dopo prenderete la vostra materia, io userò inglese, non posso far vedere la copertina per la marca. E andate a pagina It's Washing Machine e prenderete una lattina di coffee con pronto la pasta. E questo è tutto, arrivederci, grazie.